Ciao a tutti e ben ritrovati, allora oggi siamo arrivati alla 16esima lezione e andremo a vedere le funzioni logiche di Microsoft Access. Ovviamente non approfondiremo tutte ma guarderemo le principali, le più usate in assoluto. Allora torniamo sempre nel file Excel che avevo fatto, ricordo sempre che qua c'è sempre il sito di supporto dove trovate appunto le varie funzioni di Microsoft Access e anche altre informazioni adesso legate. Ad ogni modo oggi andremo ad approfondire praticamente la funzione nz che ci permette di praticamente quando un campo restituisce un valore nullo quindi non c'è proprio il valore al suo interno la funzione mette un valore alternativo. Questo ci aiuta perché ci permette di non andare a fare un if ad esempio che è quello che vedremo dopo, if then else perché ad esempio se troviamo un valore nullo dovremo scrivere se il campo è nullo allora metti un valore piuttosto che un altro. Col valore nz è molto più veloce fare questa cosa qua quindi vedremo if then else poi lo switch che è un if alternativo e poi vedremo il like, il like complesso e le funzioni logiche and or. Allora andiamo nel nostro database qui ho aggiunto questa query e andiamo subito in analisi e vediamo allora per creare un nullo io qui ho creato praticamente due query, due tabelle e ho fatto praticamente un join tra la tabella anagrafica e la tabella valori. In modo che quando noi andiamo ad eseguirlo se tiriamo giù ad esempio il valore 2 e ce lo mettiamo qua ok non ci sono sempre risultati sulla tabella 2 quindi nell'anagrafica abbiamo un articolo che va a connettersi con la tabella valori ok. Il valore 2 non sempre è popolato ma non sempre la chiave esiste anche sulla tabella dell'anagrafica quindi dove non esiste lui riporta nullo perché nella seconda tabella non esiste proprio il valore non esiste il record con la stessa chiave. Quindi lui mette nullo e quindi che cosa fa praticamente? Facendo questo tipo di join ho creato appunto la condizione di avere un null e ecco che qui ho usato la funzione nz. Quindi appunto funziona nz, si fa nz aperta tonda, lì si mette il campo che si vuole valutare e poi lì si mette il punto e virgola e tra le virgolette ci mettiamo il testo che vogliamo far comparire. Se vogliamo mettere un numero vero e proprio perché qui stiamo valutando un campo, qui adesso sta valutando un campo alfanumerico ma se vogliamo valutare un numero, un campo numerico e mettere ad esempio lo 0 dove compare il null allora qui potremmo mettere ad esempio 0 così ok. E potremmo gestire appunto entrambi i formati, quindi dando l'ok andiamo a vedere, io qua tiro giù il valore 2 ok che è quello che abbiamo analizzato, non metto vicino, se vedete il valore 2 qui non ha popolato perché esce proprio null e qui invece compare non definito ok così lo fa in automatico. Invece l'if, il se di excel come si fa? Praticamente che cosa gli ho detto qui? Io qui gli ho detto guarda fammi una valutazione sul campo versato che è di tipo numerico, quindi quando si mettono i numeri non bisogna, se si valutano campi numerici di tipo, di formato numerico non si mettono mai le virgolette ok? Il numero è sempre senza le virgolette solo, i risultati alfanumerici oppure l'interrogazione di un campo alfanumerico bisogna utilizzare le doppie virgolette che vedete qua. Quindi gli dico praticamente if, con access il se si fa con due i, di solito si fanno così, facciamo anche la terza grande ok? i, i, f ok? Aperta tonda e lì si dà la condizione quali si dice. Guarda se il versato è maggiore di 5 allora mi risporti sì e quindi il den si scrive col punto e virgola. Altrimenti else, ok? Si mette l'altro valore. Potenzialmente io posso fare anche degli if nidificati sul primo risultato dopo il den oppure sul else. Quindi anche qua noi potremmo continuare, ad esempio andiamo capo e lì diciamo guarda, il primo if questo, quindi se questa è vera, ok? Allora mi esegui anche questo if. If, ad esempio, versato, anzi possiamo dirgli articolo, ad esempio, uguale a gesso, allora metti sì. Quindi altrimenti metti no e dopo ovviamente dobbiamo chiudere con due parentesi perché abbiamo la prima di apertura, ok? Che è quella che chiude qua giù, l'ultima che chiude qua giù. La seconda che l'apriamo qua, ok? E ho sempre un risultato doppio, quindi ho questo qua, ok? Per fare giusto qua andrebbe messo anche questo perché ovviamente questa parte qua diventa la condizione all'interno del primo den. L'else non l'abbiamo più dichiarato e quindi andrebbe inserito anche questo, però funziona anche se non lo mettiamo. Potenzialmente questo if potremmo anche metterlo dopo, quindi ad esempio qui gli diciamo che la risposta era sì, ma se è minore o uguale a 5 esegui anche quest'altro if e lo mettiamo dopo l'else, ok? Anche qua lo stesso giochetto, solo che abbiamo già tre risultati. Il primo, ok? Questo si aspetta sempre due risultati, quindi il primo è den sì, altrimenti esegui quello che c'è qua dentro. Questo A qui anche ne ha due, quindi se è gesso allora metti sì, altrimenti questo è sempre la doppia parentesi di fondo. Se non ricordo male con l'if ne possiamo nidificare fino a 10 o 12, adesso non ricordo bene, mi pare che è il 10 il limite. Se facciamo 10 if nidificati all'undicesimo la formula si pianta, quindi come si fa a risolvere questo problema qua? Succede che dovete fare due campi, ad esempio fate la prima condizione e la mettete qua, poi fate un'altra condizione e la mettete qui e poi con un terzo campo oppure con un'altra query si va a unire le due informazioni. Ad esempio qui avrò dei record nulli sulle condizioni che non riesco a valutare e qui avrò record nulli sulle altre condizioni che non riesco a valutare. Però dove riesco a valutarle ho sempre un risultato, quindi non avrò mai un record ad esempio che su entrambi i record ho entrambe le valutazioni di if. Una ce l'ho qua che arrivo a fare 10 if nidificati e l'altra ce l'ho ad esempio di qua, ok? Se qui è popolato di qua sarà sempre nullo, se di qua è popolato di qua sarà sempre nullo. Quindi cosa farete dopo? Voi concatenerete il primo campo col secondo campo. Come si fa a fare una concatenazione? Si fa così, praticamente ipotizziamo che vogliamo unire l'articolo e la descrizione, ok? Ci tiriamo giù l'articolo, facciamo end, descrizione. Con l'end si va a fare una concatenazione, il riferimento... Ah, perché l'articolo qui è dentro due volte, diciamo che lo prendiamo dalla tabella anagrafica. Ok, qui era il discorso che praticamente, se ricordate, bisogna sempre stare attenti perché se il campo viene utilizzato da più tabelle, ok? Lui dice, ok, ma da quale tabella lo stai utilizzando, allora lì si nomina la tabella all'inizio. Quindi eseguiamo, vedete che qui è andato a fare l'unione, ok? Quindi sempre con l'end. Se volete mettere uno spazio, qui ovviamente non fate altro che fare virgolette, spazio, virgolette e poi ci mettete un altro end. Ok, e così avete fatto l'unione con gli spazi. La stessa cosa lo potete fare se superate il limite degli if, fate due campi e poi li unite, ad esempio, con l'end, come ho fatto io in questo momento. Poi c'è lo switch, che è praticamente un if alternativo, e questo che cosa fa? Praticamente, vediamo un po'. Lui dice, guarda, facciamo così, e facciamo così, e facciamo anche così. Io gli dico tre condizioni, praticamente, qualico. Switcha in base a quello che trovi. Se il versato è minore di 1, allora scrivi basso, ok? Quindi, condizione, risultato, se è vero. Si fa il punto di virgola e lì si dà la seconda condizione. Se questa condizione, and, quindi vediamo anche l'operatore and, quindi se il versato è maggiore di 1 e il versato è minore o uguale a 1, quindi è all'interno di questi due intervalli, allora scrivi medio, ok? Quindi sempre punto e virgola per dare il risultato. Poi ancora punto e virgola, si fa tutto con i punti virgola, questa cosa qua. Sapete che vedete sempre due. Gli diamo la condizione e il risultato. Condizione, risultato. Lui se le passa tutte alla prima che trova, dà il risultato e si ferma. Quindi se questa è valida, ok, lui dà questo come risultato e non legge tutto quello che mettete dopo. Se questa è falsa, lui va a leggere la seconda condizione. Se è falsa, va a leggere la terza condizione. Se è falsa ancora, vi riporta bianco, ovviamente, perché non ha nessun tipo di risultato. Quindi vediamo questa cosa qua. Quindi il minore di 1 è basso, se è all'interno tra 1 e 5 da medio, se è maggiore di 5 da alto. Al posto di fare IF versato minore di 1 all'ora basso, poi punto e virgola, IF versato all'interno di questa cosa all'ora medio, IF, quindi tanti IF nidificati. Con questa cosa qua riuscite a evitare la nidificazione dell'IF che è molto strategico. Ad esempio potreste anche anidare l'IF e lo switch, così potrete andare anche oltre i 10 IF che vi dicevo prima se ne avete l'esigenza. Quindi andate proprio a fare una nidificazione più potenziata. Questa è veramente molto utile. Quindi vediamo un po' il risultato e vedete che da alto, medio, alto, medio, basso, basso, in base al contenuto che c'è all'interno di risultato. Vediamo l'ultimo, il like. Praticamente questo è un tipo di filtro che si può andare a fare. E qui vediamo ad esempio che ho messo un esempio. Vedete qui c'è fino, fina e fini. Allora noi vogliamo andare a filtrare tutto quello che inizia per fin. Come si fa? Si usa il like. Per fare il like noi scriviamo like, ok? Noi potremmo dirgli ad esempio, anche la prima condizione, fini, ok, or, fino, or e così via. Ok, però è sempre un po' scomodo, l'avevamo anche un po' visto. Altrimenti facciamo like, apriamo una tonda, mettiamo le virgolette, diciamo fin e ci mettiamo un bel asterisco. Chiudiamo le virgolette e chiudiamo la tonda. Così facendo noi andiamo ad estrarre tutti i record che iniziano con fin. Però ipotizziamo che io non è questo il risultato che voglio fare. Voglio ottenere tutti i record che iniziano con fin, ma non voglio vedere la O. Voglio estrarre solo fini e fina. Allora come si fa? Si può utilizzare un like potenziato. Il like potenziato, ok, gli si dice, al posto dell'asterisco gli diciamo fini, fin, praticamente sono i primi tre caratteri che sempre dovrò andare a cercare. E poi gli mettiamo i caratteri giolli. Allora l'asterisco me li tira fuori tutti, quelli che trova dopo fin, ok? Invece io gli dico che guarda, io voglio quelli che finiscono con i oppure quelli che finiscono con a, ok? E ci chiudo la quadra. Perfetto. Io ho dato due caratteri, quindi lui quando metto all'interno della quadra sta cosa qua, ok, dopo fin lui sceglierà o la i o la a. Quindi se noi andiamo ad eseguire poi questa query vedete che io ho fini e fina, però non ho fino. Questa è un'altra alternativa per non andare a utilizzare tanto l'or, or, or e essere un po' più puliti sul codice. Bene, con questa lezione direi che è tutto. Nella prossima andremo a fare un po' di esercizi con le date, forse è quella un po' più interessante. E spero come sempre che questa lezione sia stata di vostro gradimento. Condividete la risorsa nei social se vi fa piacere. Lasciate un like, iscrivetevi se non siete iscritti. Vi ringrazio molto per l'attenzione e ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!